Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed oggi sono qui con un video speciale lo chiameremo speciale per i 7000 iscritti che è arrivato un po' in ritardo ma semplicemente perché sono letteralmente sobbarcato di lavoro ma ho anche il piacere di annunciarvi che sto per avviare la mia attività quindi vi darò qualche consiglio, vi spiegherò un paio di cose e lo farò grazie agli amici di Fiscozen che mi hanno dato la possibilità di creare questo video e vi darò qualche dettaglio più avanti come sapete quando si carica un video su YouTube e si ha la partnership si può monetizzare il video se si hanno molte visualizzazioni si guadagna comunque poco su YouTube a meno che non si abbiano dei numeri assurdi e la maggior parte degli introiti che si ricava da un video su YouTube è dovuto alle sponsorizzazioni che ogni tanto vedete sul canale avete presente il sito di software oppure le review dei prodotti quelle sono delle sponsorizzazioni e dovete sapere che a un certo numero di sponsorizzazioni quindi a un certo numero di guadagni è assolutamente necessario aprire la partita IVA per non incappare in guai fiscali ed è qui che entra in gioco lo sponsor di questo video Fiscozen che ringrazio per avermi dato l'opportunità di portarvi questo contenuto perché senza di loro questo tipo di video non sarebbe stato assolutamente possibile e per chi non lo sapesse Fiscozen è un servizio che vi permette di aprire e gestire la vostra partita IVA in modo pratico, facile e sicuro ma vi darò qualche dettaglio più avanti Io ho ricominciato a fare video a settembre 2020 infervorato da Nvidia che annuncia le sue RTX 3000 io avevo lavorato fino a qualche mese prima e avevo qualche soldino da parte e mi sono detto questo è un argomento che mi piace tanto è un argomento di cui mi piacerebbe parlare in effetti in un video perché mi appassionava ho cominciato a fare video riguardo le RTX 3000 sapete che poi ho comprato la mia 3080 e da allora sono cominciato ad arrivare un bel po' di collaborazioni collaborazioni con negozi di hardware collaborazioni con siti che vendono chi di videogiochi e di software e ovviamente quando tu fornisci un servizio pubblicitario perché quello che è il pre-roll all'inizio del video è pubblicità devi essere pagato è ovvio che all'inizio con un canale piccolo non si raggiungano dei numeri esorbitanti per cui diciamo basterebbe semplicemente compilare un modulo di prestazione occasionale ma quando si raggiunge un certo numero appunto di collaborazioni e quindi di introiti è assolutamente necessaria la partita IVA per cui io mi recai all'epoca al CAF del mio paese e l'esperienza è stata decisamente devastante credetemi mi fu detto che a fine 2020, inizio 2021 in Italia, o forse loro non erano aggiornati non c'era una vera e propria legislazione per un content creator su internet e la cosa effettivamente mi sembrava assurda perché essere un content creator sull'internet è praticamente un lavoro ormai da un bel po' di tempo e non c'era in realtà un codice a tego di partita IVA che fosse in grado di inquadrarvi a livello fiscale quindi che cosa avrei dovuto fare, cosa molto divertente avrei dovuto andare una volta al mese, lì al CAF a chiedere, oh è uscito praticamente questo codice è possibile adesso essere inquadrato fiscalmente mi posso aprire una partita IVA? e sinceramente parlando, fare ogni volta tre ore di fila per poi sentirmi dire, no guarda non è possibile beh mi stava pesantemente sulle scatole da divetto sveglio quali sono? ho cominciato a cercare un pochettino su internet come è possibile aprire una partita IVA in maniera semplice e veloce e neanche a farlo apposta sono incappato nel video di Simone Cioè Simone Cioè io lo conosco perché porta contenuti riguardanti delle fotocamere e videocamere di casa Sony e un suo video era appunto riguardo a Fiscozen in pratica Simone spiegava di come fosse semplice aprire una partita IVA avendo dei clienti grazie a Fiscozen in modo semplice, sicuro e veloce perché Fiscozen, come ho detto prima, è un servizio che vi consente di aprire e gestire la partita IVA grazie anche a un commercialista online sempre disponibile via email o al telefono e una piattaforma online per gli adempimenti fiscali in Italia appunto grazie a Fiscozen ora è possibile essere un content creator a tempo pieno e non solo sull'internet perché come sapete da due o tre mesi a questa parte io lavoro anche al di fuori della rete è possibile eliminare qualsiasi stress o incomprensione dovuta appunto alla burocrazia del nostro paese che molte volte non è chiara la cosa che potrebbe aiutarvi è che le loro consulenze effettivamente sono gratis, sono illimitate e vi aiutano a inquadrarvi fiscalmente senza alcun problema ma vi aiutano a trovare il vostro codice Ateco che sarebbe il codice di riferimento della vostra partita IVA vi aiutano in tutti gli step di apertura e gestione della partita IVA che non è una cosa da poco perché molte volte alcuni commercialisti questa cosa non la fanno la cosa migliore di questo servizio però secondo me è che poi vi aiutano a gestire le vostre tasse quindi vi spiegano come pagare le tasse sia come content creator nel mondo digitale quindi sull'internet ma anche al di fuori perché potete essere seguiti nonostante voi facciate magari la professione più disparata e sono certo che loro sapranno seguirvi in maniera semplice, veloce e pratica ma questo l'abbiamo già capito quindi se necessitate di ogni tipo di informazione loro ci sono, sono lì per aiutarvi e in descrizione c'è un link a cui potete rivolgervi per avere una consulenza gratuita e anche una piccola sorpresa come dicevo all'inizio quando le collaborazioni cominciano a crescere e comincia in effetti ad esserci un introito in grado di, non lo so, farti pagare delle bollette in grado di farti acquistare qualcosina per portare del contenuto sul tuo canale beh, devi rilasciare un documento devi rilasciare qualcosa che attesti che tu abbia fornito un servizio e qui in effetti arriva un aneddolo molto interessante la prima volta che io ebbi l'esigenza di compilare un modulo di prestazione occasionale beh, diciamo che ci ho messo due giorni per compilarlo quell'esperienza fu letteralmente l'inferno per me perché per compilare 5 righe appunto impiegai davvero tanto tanto tempo perché sentivo che fosse un documento molto importante e non volevo assolutamente sbagliare nulla ma anche qui per fortuna Fiscozen avrebbe potuto aiutarmi avrebbe potuto aiutarmi perché grazie alla loro app compilare una fattura e poi inviarla al vostro cliente è qualcosa di estremamente semplice molto molto smart e se poi avete dei dubbi e siete dei tipi ansiosi come me potete compilare ogni tipo di fattura con l'ausilio del vostro commercialista personale che vi seguirà passo passo e vi spiegherà passo passo i campi da riempire per evitare di fare errori di qualsiasi tipo attenzione, non è il classico servizio per cui l'impiegato ci mette tre giorni per risponderti assolutamente no voi potete compilare tale fattura rimanendo al telefono col vostro commercialista oppure chattando via email è qualcosa di estremamente veloce semplice e pratico e soprattutto siete nelle mani di un professionista quindi sicuramente non potete commettere errori ed è una cosa davvero davvero importante questa ma ancora più importante è la sezione dell'app dedicata al tenere traccia di tutte le fatture perché credo che non siamo più negli anni 80 in cui si prendevano tutte queste scartoffie si mettevano in un raccoglitore e col tempo la carta praticamente diventava gialla alcune cose non si leggevano qui è tutto online tutto visibile tutto trasparente quindi gran figata se non vi ho ancora convinto a cliccare il link in descrizione vi dico che se lo cliccate per il primo anno c'è un 50 euro di sconto sulle spese annuali con il coupon che trovate appunto nella descrizione del video quindi bello e questa cosa potrebbe effettivamente tornarvi utile quando arriva il momento di pagare le tasse perché io sono già in ansia credetemi quando si tratta di queste cose è meglio avere qualcuno di preparato al vostro fianco per indirizzarvi appunto sulla giusta via fin dalla prima chiamata con l'esperto fiscale voi avete un prospetto di quello che andrete a pagare ok? ed è qualcosa di estremamente comodo anche perché la piattaforma di FiscoZen ha un comodissimo calcolatore di partita IVA che si aggiorna in automatico tiene conto di ogni fattura emessa e soprattutto il vostro commercialista personale vi terrà informati su quando e quanto pagare per tasse e contributi in pratica avete un angelo custode che sta lì e vi dice guarda tu devi fare questo lui si occupa della parte amministrativa e voi praticamente potete lavorare fare quello che volete senza avere il timore di incappare in errori che poi vi costeranno altro denaro per una vostra svista ora come ho detto io sto aprendo la mia attività piano piano è qualcosa che non pensavo sarebbe stato possibile è qualcosa che mi è stata chiara col tempo se posso essere sincero perché dalla prima volta che ho caricato un video su YouTube ormai si parla di anni addietro ho capito che la qualità tecnica di un video la qualità audio di un video è qualcosa che a me interessano davvero tanto per cui vi informo che io sto diventando videomaker a tempo pieno sicuramente il canale YouTube resterà aperto questo è poco ma sicuro perché con alcuni strumenti che sto prendendo i video di tecnologia i video di PC saranno decisamente più belli e più interessanti da vedere il mio obiettivo è quello di si fornire materiale videografico per non lo so eventi cerimonie prodotti ma voglio far sì che la community tech di YouTube Italia possa effettivamente diventare un luogo in cui non ci sono solo informazioni tecnicamente corrette scientificamente accurate ma voglio che il tutto sia aiutato da un video fatto davvero davvero bene per cui sì io sto studiando letteralmente mi sono rimesso a studiare come si fa un video mi sono rimesso a studiare come si fa color correction come si fa color grading per offrire non solo a voi amici di YouTube ma anche a persone esterne un prodotto di cui si possa andare fieri e se posso essere sincero questo traguardo è stato possibile anche grazie a voi grazie al vostro supporto perché con il portfolio possiamo dire che ho su YouTube al momento io posso in effetti fare questo salto di qualità che però vi spiegherò magari in un prossimo video perché è qualcosa di particolare e che non so magari potrebbe aiutare qualcun altro e vi parlerò in effetti degli strumenti che andrò ad acquistare per ecco diventare un videomaker a tutto tondo ad ogni modo fare video su YouTube e fare video al di fuori dell'internet quindi per non lo so eventi cerimonie per industrie perché mi è capitato anche di fare questo sono due mondi estremamente diversi perché in un mondo hai a che fare con al momento 7000 persone con le quali non hai un riscontro fisico nel mondo esterno è totalmente diverso perché se al cliente non piace un video te lo dice subito guarda questo video fa schifo lo dobbiamo rifare ad ogni modo dal punto di vista fiscale non importa quello che accadrà perché abbiamo capito che fisco zen ha la soluzione a una miriade di problemi vi ricordo che avete il commercialista dedicato un'app sempre aggiornata anche sulla minima fattura emessa e 50 euro di sconto per le spese annuali del primo anno con il link in descrizione io non so voi ma porca miseria avrei voluto conoscere fisco zen un mesetto prima e nulla sono certo che avrei affidato a loro la cura della mia partita IVA ad ogni modo io ringrazio davvero fisco zen per avermi dato la possibilità di portarvi questo contenuto sì il video è sponsorizzato sì però io dalla prima volta che ho sentito parlare di loro sono rimasto letteralmente stupefatto da come un procedimento così complicato o meglio che ci hanno fatto credere essere complicato possa risultare semplice e possa essere attuato in maniera pratica e veloce vi ricordo che potete prenotare una consulenza gratuita con gli esperti fiscali di fisco zen già da ora il coupon di 50 euro è già inserito nel link in descrizione ma lo potete usare nel caso voi decidiate di affidare a fisco zen la cura della vostra partita IVA per cui io sono molto emozionato nel dirvi questa cosa ma il vostro G sta facendo il salto di qualità sta facendo un salto che vedrete anche voi su youtube perché non so quanti potrebbero essere interessati a un vlog di non lo so la strumentazione che arriverà arriverà anche un nuovo pc ragazzi un pc che renderà questo sebbene questo sia un mostro di pc lo renderà decisamente obsoleto e poco potente quindi vi lascio solo immaginare cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni uscirà un video riguardante la prossima build che andrò ad assemblare e che diventerà la mia workstation ragazzi io non ho mai utilizzato questo termine ma stavolta mi sento di chiamare questo mega pc che andrò ad assemblare workstation perché avrò a che fare con fa il video in 8k e mi servirà tanta 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 potenza di calcolo io vi ringrazio ancora per aver guardato il video ringrazio ancora Fisco Zen per aver sponsorizzato il video questo sarà uno speciale di aggiornamento per farvi capire che molte cose stanno cambiando e questa è la ragione per cui non mi vedete così presente sul tubo ma credetemi le cose stanno cambiando decisamente in meglio grazie mille ancora e ci vediamo a un prossimo video in cui vi parlerò del mio prossimo mega pc workstation che costerà un bel po' di soldi grazie mille ancora alla prossima ciao ciao belli ciao 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 ciao